e allora buonasera a tutti la ebreaccio fiorentina roma prima di tutto iscrizione al canale e un bel like perché potete arrivare a 3.000 iscritti se ci vogliamo arrivare conto su di voi mi raccomando non c'è altro risultato oggi presidia dei vici a tutti i nostri roma che non può perdere punti perché comunque vuole andare l'europa league l'astalanta agganciata la roma sono tutte lì lazio 62 roma 59 roma 59 roma 56 non c'è altro risultato bisogna vincere se ce la faccio vi faccio vedere anche la coreografia mi raccomando iscrivetevi numerosi iscrivetevi tanto a stori iscrivetevi anche per davide astori è sempre i nostri uori io ci vedo durante cosa vi raccomando sempre forza viola in bocca al lupo ai romanisti saluto anche il grande alessandro atto è lei in maratona e i grandi ragazzi di sapri grandi ragazzi ci vediamo durante la live raccio buona sfide del valore una speranza viva ciozzola abbiamo un cuore o più di ogni squadra tipo buona regina oh fiorezzina guarda un quartino e con valo nell'ora di sconforte e di vittoria ricorda che del calcio è tua la storia belli 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 e ora a breve inizia il match forza ragazzi già vincito non c'è altro risultato var var dai 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 rigore dai 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 c'è altro risultato servizio servizio di vittoria servizio servizio per Sì! A pombosi! Sì! Mamma mia dai! Dai! Sì! 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 Vieni! Sì! 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 Buonaventura! Sì! 2-0! Mamma mia! Anzi! Dai! Pellegrini! Noia! Brutta! È un regalo! Pellegrini! Bravo! Terra! Pellegrini! Dai! 3-0! Ancora lui! C'è! No! Fuori ciò! Mamma mia! Peccato! Dai! Uguale! Grandi Foggi ragazzi! Grandi! Veramente Grandi! Dice al primo tempo! 2-0! Ma! Dai! Forza! Già un terrenosista! Gioando bene! Però è ancora lunga! Anche 45 minuti a giocare a fuoco! Ho rivisto il rigore sinceramente! Molto dubbioso ragazzi! Gonzales non viene toccato! Ma... È andato bene! È andato bene! E niente! Teniamo bene dai! Forza Viola! E... Ci vediamo nel secondo tempo! Ciao ragazzi! Siamo sempre insieme a te! Sempre e comunque vada! Non ti lasceremo mai! Da sola! Venti! Bravi! Grandi! Non si ti coglia! Non si ti coglia! No! Dai! 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 No! Dai! Dai! Bravo! Gonzales! Dai! 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 Bravo! Bravo! Ale! Forza Viola! Bellissimo! Bravo! Bravo! Forza! Non dobbiamo accattare! Sessantasettesimo! Dai! Dai! Oh! 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 No! 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 Non lo fa a crossare! No! No! bravo meno male periodosissima Villaroma un zaniolo bravo bravo terracciano attento anche i 7 da 8 ma va bene dai 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 no già fatto 3 a 0 serve come il pane per gli scontri dai dopo 10 mesi torna in campo anche Spinazzola un grande un grande in bocca al lupo a Spinazzola perché merita rispetto intanto standing confession per Gonzales e Nicolè mamma mia ci siamo ragazzi novantesimo sta per arrivare questa vittoria dopo un periodo d'accio 4 sconfitte ripida sembra essere rinavata la luce dai dai è bolgia è una bolgia è una bolgia via no 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 va vaia vai vai che stadio stasera che atmosfera aspettavolo aspettavolo ai franchi 2 a 0 ecco no ancora neppi che finisce qui che finisce qui iscrizione e forza viola post partita sei aspettavolo ai